Vasca di Alessandro che ringrazio abbiamo un ciano da 60 litri come quello che ho io abbiamo 6 cardinali, 2 ancistrus piccoli e 7 daniofrenchi allora come valori siamo a valori giusti di pH e KH abbiamo comunque un pH tendenzialmente acido quello che mi ha detto è che hai avuto un problema inizialmente avendo messo delle piante lente come le criptocorine e quindi l'acquario si è riempito di alghe, hai risolto inserendo poi delle rapide il problema delle piante rapide che crescono comunque poco è dovuto probabilmente a qualche tipo di carenza difficile poterlo stimare, vedi il colore delle foglie, come sono le foglie e in base a quello vedi se c'è un tipo di carenza comunque ora la vasca va abbastanza bene, ricordate ragazzi come ci insegna Alessandro che un acquario se possibile va messo con piante a rapida crescita se non le volete mettere inizialmente potete coprire la superficie con delle galleggianti comunque questo impedirà una formazione, una proliferazione algale all'inizio, poco dopo l'allestimento acquario di Antonio Francavilla grazie mille per questa vasca il tuo problema era di avere le piante galleggianti mangiate costantemente dalle lumache allora bisogna capire se sono in deperimento perché vengono mangiate dalle lumache cosa in realtà difficile di solito tendono a mangiare le piante ancorate al fondo le piante comunque di più facile accesso da parte delle lumache quindi non so se vengono mangiate oppure si tratta di qualche carenza o sofferenza in ogni caso se pensi siano dovute alle lumache che mangiano le galleggianti devi incrementare il nutrimento delle lumache quindi ti consiglio di inserire più verdure magari degli spinaci e vedrai che poi lasceranno in pace le piante analizziamo la vasca 45 litri netti con pecilia quindi guppi e plati abbiamo anche un Corridoras che però sposterai perché noto qui un fondo in realtà non perfettamente sabbioso ricordate ragazzi che per tutti i pesci da fondo con barbigli quindi per esempio con i Doras oppure i Pangio quelli che assomigliano a dei vermetti insomma questi vogliono tutti un fondo sabbioso o a granulometria molto fine non devono rovinarsi i barbigli grazie mille Antonio e passiamo alla prossima vasca vi mostro adesso il fantastico Malawi di Giuseppe che ringrazio Giuseppe mi hai mandato già altre volte questa vasca comunque è sempre bella da vedere per chi non conosce questo tipo allestimento allestimento Malawi quindi grandi laghi africani si tratta infatti di ciclidi del Malawi quindi ciclidi dei laghi africani è un acquario essenzialmente privo di piante questo perché? perché le piante hanno vita breve con questi ciclidi sono molto agitati e sbarbano ogni tipo di fusto di vegetazione quindi è impossibile riuscire a tenere qualche pianta magari qualcuna molto coreacea sì ma non certo le piante più fragili allestimento nudo quindi solo hardscape ovvero rocce e legni a volte anche solo rocce in questo caso abbiamo anche legni però di solito si mettono anche soltanto le rocce bellissima come sempre l'unica cosa è detto che c'è un bozzi all'interno che c'entra poco in effetti c'entra poco però ricordati che cresce anche tanto e insomma è un pesce che ha le sue esigenze anche come valori differenti dagli altri ciclidi ringraziamo ragazzi Luigi per queste splendide immagini perché ci ha permesso di poterle vedere si tratta di una vasca da 400 litri la popolazione è straordinaria 200 cardinali 10 rapiresi e 10 scalari perché ragazzi questo è il modo di tenere questi banchi di piccoli pesci devono essere molto numerosi più sono meglio in realtà qui addirittura ce ne sono 200 quindi figuriamoci meglio di loro nemmeno in natura osservate come è fluido come è unito come è compatto questo banco ed è una cosa bellissima da vedere ricordatevi sempre questa cosa almeno 10-15 esemplari ma anche di più infatti anche io stesso che ne ho 15 tenderò ad aumentarne perfetto abbinamento scalari e cardinali i ramirezzi in realtà non sempre sono consigliati ma in questo caso vanno benissimo perché l'acquario è molto fittamente piantumato e quindi possono tranquillamente trovare il rifugio negli altri della vasca quindi è una convivenza che è perfetta ha anche i valori acqua tenera e acida quindi perfetta è una vasca veramente straordinaria ti faccio i miei complimenti una delle più belle di questi tour vero che già 400 litri di per sé sono straordinariamente imponenti e insomma importanti ma tu hai saputo veramente gestirli alla grande ti faccio i miei complimenti vediamo ora il primo caridinaio allestito di Alessio in realtà è un caridinaio lumacario ci sono diverse tipologie di lumache vediamole insieme possiamo notare subito le Tilo Melania Yellow o Orange a seconda del tipo Neo-caridina Davidi qui possiamo vedere le Blue convivenza perfetta in un 30 litri infatti non siete condannati a mettere solo caridine potete mettere anche queste splendide magnifiche chiocciole le Tilo Melania poi sono molto grandi molto belle sembrano delle proposciti degli elefanti sono spettacolari le prenderò anch'io personalmente in futuro la convivenza è perfetta per un discorso più che altro di valori infatti la Neo-caridina Davidi vuole sopra il 7 di pH così come anche le chiocciole acquatiche che vogliono un pH sopra il 7 il mangime è sostanzialmente lo stesso richiesto da entrambi le tipologie infatti abbiamo mangimi verdure comunque integratori di calcio quindi un acquario senza pesci può dare soddisfazione tanto quanto quello con i pesci poi dipende dai gusti ovviamente a me personalmente queste vasche mi rilassano molto se vuoi puoi aumentare tranquillamente la piantumazione inserendo qualche altra pianta puoi sbizzarirti come vuoi tanto le Tilo Melania in realtà mangiano le parti deboli delle foglie marcescenti ma non le piante intere l'unica possibilità è che essendo parecchio grandi ingombranti possono eventualmente estirparle ma non perché le mangiano semplicemente perché le spostano e quindi può capitare che qualche pianta si stacchi dal fondo però non è un grosso problema poi hai le epifite così ancora meno e come ogni episodio del tour che si rispetti non può mancare il bettario vediamo oggi quello di Pietro Paolo da Ischia grazie mille vediamo subito il bettamaschio ovviamente con singolo bettamaschio se volete vedere tutorial ci sono su youtube su come allestire una vasca con betta li trovate sul canale comunque questa è una vasca dedicata a questo bellissimo esemplare di bettamaschio noto la presenza di molti galleggianti molte barriere visive vasca chiusa per preservare l'umidità questa è una vasca fatta a regola d'arte con molti galleggianti ti faccio veramente i miei complimenti vediamoci ora un video come vedete le galleggianti sono di diverso tipo abbiamo sia la pistia più posteriormente anteriormente quella sembrerebbe una red root floater comunque importante che il betta non abbia una luce diretta perché gli dà fastidio e soprattutto che abbia molte barriere visive ovviamente non è un problema se ci sono piante fittamente coprenti la superficie della vasca perché tanto trova uno spazio comunque per riuscire a respirare si fa strada tra le piante magari se ne vedete troppe potete rimuoverle perché comunque come sapete ogni tanto il betta va in superficie a prendere una boccata d'aria e quindi un po' di spazio magari lo lascerei ma ne basta veramente pochissimo tanto il betta è intelligente non è che non riesce a trovarlo si fa strada comunque passiamo adesso passiamo adesso alle ultime vasche stefano samuel sono due vasche le ultime di questo episodio abbiamo ho perso la descrizione in realtà però intuitivamente mi sembra una vasca di un litraggio adeguato siamo secondo me sui 60 litri con cardinali e cicli di nani si vede molto bene la convivenza può essere anche giusta soprattutto considerando la piantumazione fitta di questa vasca e l'altra vasca è il cubetto con betta sempre molto bello sono vasche comunque simili mi piacciono molto molto ben piantumate ti faccio i miei complimenti grazie ancora per avermi inviato queste vasche